Siamo con uno dei candidati alle prossime consultazioni regionali, naturalmente l'ultima parola poi spetterà alla direzione del Partito Democratico, quindi parliamo proprio di PD e parliamo di Simone Tartaro, che ha deciso di scendere in campo per questa elezione regionale. Allora, intanto le motivazioni della tua scelta? Le motivazioni direi che vengono da lontano. In parte c'è un percorso sicuramente di formazione culturale, personale, che è quello che mi porto dietro da anni e che sicuramente mi porta a dire che l'impegno politico è una forma di servizio veramente fondamentale e importante. Parallelamente si innesta in questo percorso un pezzo di strada che insieme a tanti amici e a compagni di strada abbiamo fatto in questi anni. Questa è una tappa di questo percorso, di questi anni. C'è stato e c'è il bisogno, la necessità di metterci la faccia a volte e quindi volentieri, con tanto senso della responsabilità, perché mi sento forte il senso della responsabilità di questa fiducia che mi è stata data da tante persone e che spero mi verrà data in futuro anche dagli elettori, quindi mi metto in gioco e si parte per questa avventura. Allora, a questo punto le firme sono state raccolte, i prossimi step quali saranno? I prossimi step saranno la direzione provinciale del Partito Democratico che si riunirà intorno al 10 di aprile, che dovrà ratificare la lista provinciale e poi la ratifica finale di tutte le liste della regione che verrà fatta nella settimana successiva dalla direzione regionale. A quel punto comincia la campagna elettorale vera e propria, quindi a quel punto chi sarà dentro a quella lista saranno i candidati del Partito Democratico e si comincerà a lavorare.